Ti prego non morire Kendal perché sennò fai una figuraccia Ok, c'ho la mia barchetta, l'ho rotta mi sa, si l'ho rotta Ah! No! Oh mio Dio! Oh Ciao a tutti ragazzi, sono Kendal e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft E oggi ci troviamo di nuovo nella versione 1.6.4 Perché l'ultimo episodio vi è piaciuto veramente tantissimo E infatti avete superato 8.000 mi piace Oh mio Dio! Facciamo una cosa, uscirà un nuovo episodio quando questo video supererà i 5.000 mi piace Quindi impegnatevi e lasciate tantissimi bei mi piace Adesso togliamo questa zucchetta da qua Perché? Allora, ragazzi, nello scorso episodio avete visto in tantissimi molte cose ambigue e strane E in tanti mi avete scritto nei commenti potrebbe esserci Aerobrain Qualcuno mi ha segnalato che dietro un albero si trovava una presenza molto ambigua Io personalmente non l'ho vista e non riesco tuttora a vederla Però, mi raccomando, se vedete qualcosa di strano Come per esempio questa pecora che mangia la terra Scusa signora pecora, cosa sta facendo? Dicevo, se vedete qualcosa di strano Segnalatela nei commenti con il minuto Tipo al minuto 2.51 è successo questo, ho visto questo In modo tale che io posso tornare indietro e riguardarlo Per tutti i nuovi spettatori ci troviamo in una versione vecchissima dove ancora c'è Aerobrain Perché è stato detto ufficialmente da Mojang che nell'1.6.9 hanno rimosso Aerobrain Qua siamo in una versione precedente, ovvero l'1.6.4 Per cui, teoricamente, Aerobrain dovrebbe ancora esistere in questa versione Il che, ragazzi, mi fa pensare che potrebbero succedere tantissime cose molto molto strane Alcuni di voi nei commenti mi hanno detto Eh, ma sei paranoico, qualsiasi cosa ti fa paura Ragazzi, mi trovo in una versione in cui potenzialmente potrebbe esserci Aerobrain Quindi, ovvio che sono paranoico, ho paura Allora, abbiamo trovato nello scorso episodio una bellissima giungla E io non vedo una giungla su Minecraft da 100 anni Perché adesso sono rarissime nelle nuove versioni Quindi le giungle adesso per trovarle sono super, super difficili Mentre invece in questa versione vecchia, teoricamente, sono più facili da trovare Ma chissà cosa contiene questa giungla La dobbiamo esplorare? Volendo potrei anche esplorarla tutta quanta Che cos'è questo rumore? Credo sia il rumore che rappresenta tipo qualche caverna nelle vicinanze Oh mio Dio, immaginate ragazzi se dovessi trovare il tempio della giungla Io non l'ho mai trovato su Minecraft E se non sbaglio, già nell'1.6.4 dovrebbe essere stato aggiunto Quindi esiste Allora, facciamoci una barchetta così possiamo attraversare questo fiumiciatolo maledetto Oh mio Dio, sembra uno di quei fiumi, ragazzi, tipo Indiana Jones Guardate Magari qua, ragazzi, adesso tra qualche albero troviamo qualche indigeno Qualche scheletro pronto a spararmi con le frecce No, vi prego, lasciatemi stare Non vi ho fatto nulla Ho deciso che questi episodi li regisserò di più di un'ora In modo tale, ragazzi, da avere una vera e propria full inversion del gioco E che cos'è qua? Perché? Perché l'acqua sta cadendo in questo modo strano? Poi farò tanti tagli, il video durerà sempre 10-15 minuti massimo E c'ho i volumi decisamente fin troppo forti Ok, perfetto Oh, pipistrello Pipistrello Pipistrello, ragazzi, cosa significa? Vediamo se lo sapete Vediamo se lo sapete nei commenti Cosa vuol dire pipistrello? Quindi facciamo subito le torce così ci potete vedere E non mi scriverete tutti quanti nei commenti Kendall non si vede nulla Allora, io direi di prendere un altro pochettino di carbone Per cucinare il poco ferro che abbiamo trovato Personalmente credo sia più interessante vedermi giocare per tutto questo tempo E poi ovviamente fare i tagli Così, ragazzi, potete vedere tutto quello che succede Possono succedere più cose Perché se giocassi solo 10 minuti Ovviamente magari potrebbe anche non succedere nulla Invece se gioco per un'ora intera Ci sono più possibilità intanto che io muoia E ricordate che ci troviamo, ragazzi, in un mondo hardcore Il che significa che se dovessi morire Questo mondo verrà cancellato per sempre E io non sto salvando il backup Quindi non faccio il furbetto come fanno alcuni Che si salvano il backup e poi possono rigiocare al mondo No, 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 no Questo se si perde, ragazzi, si perde per sempre Ok, adesso abbiamo un bel po' di ferro Direi di farci un elmetto Così ci sono meno possibilità di morire Dobbiamo anche stanziarci da qualche parte Quindi fare una vera e propria casa Perché quella che ho fatto nel primo episodio In realtà era una casetta tanto per Tanto per far passare la notte Adesso abbiamo bisogno di una vera casa, ragazzi Una casa di un imperatore Che dite, proviamo ad andare a cercare i diamanti? O forse è troppo rischioso? Mio Dio, ma quanto ferro si trova in questa caverna? Guardate! Ma è normale che ho trovato tutto questo ferro tutto insieme? Vi voglio ringraziare ancora una volta per tutto il supporto Che avete lasciato nel primo episodio Sono super contento Evidentemente vi piace vedere le vecchie versioni di Minecraft Lo so, avevo già fatto degli altri video Dove vi faccio vedere le versioni preistoriche E sono veramente bellissimi quei video Perché comunque sono anche delle curiosità E in più sono tipo dei video vintage Quindi è molto interessante Io personalmente la seguirei una serie del genere Fatta dal mio youtuber preferito Allora, ci facciamo anche dei gambali Perfetto Ora siamo equipaggiati completamente in ferro E questo è soltanto il secondo giorno Abbiamo bisogno soltanto di una spadina Che ci possiamo fare immediatamente E penso che staremo a posto quasi per sempre Sì, direi che siamo proprio ben equipaggiati Ok, allora perché c'ho delle uova? Scusa, bella faccia Piccolo bella faccia Ciao bella faccia! No, è andato un piccolo bella faccia ragazzi Muori scheletro, muori! Ah, sono i semi di cacao Ma perché sono verdi? Non dovrebbero essere come quelli? Forse sono ancora acerbi Devono maturare probabilmente Ok, credo che sia arrivato il momento Di togliere tutto quanto E esplorare un pochettino Durante la notte Il che è molto rischioso Perché ricordate Siamo in hardcore Se mi dovesse succedere qualcosa Ragazzi, io muoio per sempre Ti prego non morire Kendall Perché se no fai una figuraccia Ok, c'ho la mia barchetta L'ho rotta mi sa Sì, l'ho rotta Ah, no! Oh mio Dio Oh Mi è venuto un colpo Penso mi sia venuto un colpo Ragazzi, ho avuto un mini infarto lì Ok, no, no, no Non è sicura questa zona Andiamo via con la barchetta Dov'è la barchetta? Ma Ma Ce l'avevo nell'inventario Ok, andiamo via Oh mamma mia Ho visto due creeper Per fortuna che ho i riflessi pronti Sono riuscito a scappare Guardate Pullula di creeper Questa E poi si mimetizzano Si mimetizzano qua nella giungla Ovviamente Dovremmo riuscire Ad uscire Ok, siamo usciti Sì, siamo ufficialmente ragazzi Fuori dalla giungla Perfetto Ma Per quale motivo ci sono tutti i rampicanti Qua nella caverna? È proprio interessante ragazzi Esplorare le vecchie versioni di Minecraft Si vedono tante cose che adesso Non sono più così comuni Come per esempio Le ombre tutte baggate Oh mio Dio Villager zombo Cosa stai facendo? Dammi quella pala Dammi quella pala Che mi serve Droppala Non l'ha droppata Mannaggia Come vi dicevo ragazzi Questo bioma sembra essere veramente molto strano Intanto è super baggato Come vedete Ci sono tipo tutte quante le luci qua che vanno via Guarda questo scheletro No, no, no Dammi il tuo arco Dammi il tuo arco che mi può servire Oh mio Dio L'ho fatto cadere Mi sa che l'ho fatto cadere giù Ah, mi ero dimenticato che qua si può fare il block hit Vedete? Qua posso sia pararmi Che attaccare al tempo stesso Mi ero completamente dimenticato di questa opzione Wow, che bello il Minecraft vecchio È veramente bellissimo Non c'erano tante cose come nel Minecraft di ora Adesso c'è veramente una scelta infinita Tra colori Libro che ti aiuta a craftare Nuovi blocchi E tutte queste cose Però un tempo ragazzi Io mi divertivo lo stesso Anche con queste mancanze No No Attaccalo Bravo, bravo, bravo Bravissimo Attaccatevi tra di voi Va, vai Uso gli zombie come scudo ragazzi Guardate come si ammazzano E ora tu muori E adesso lo zombo ha poca vita E poi uccido pure te Fantastico Ecco le vere tattiche di un PVPR Le vere tattiche di un combattente come me Fuori dal mio giardino Vai via Ok, siamo riusciti a sopravvivere a un'altra notte di Minecraft E sembrerebbe che non abbiamo visto nulla di troppo ambiguo al momento Poi chissà Sarete voi nei commenti a dirmi se c'è qualcosa di strano Tipo per esempio quella montagna gigante Ma che cavolo Tutto ciò è affascinante ragazzi A me piace veramente tantissimo giocare a questa vecchia versione E mi sa che nel prossimo episodio ci stanzioneremo da qualche parte Per fare una vera e propria casa Certo che le cose prima si generavano veramente in modo strano Vediamo che suono fanno gli squid Eh sì, proprio quello Proprio lo stesso identico suono che fanno adesso Ok ragazzi Penso di andare adesso oltre quella montagna Per vedere cosa trovo Che tipo di bioma ci sarà Dopodiché questo episodio potrà anche concludersi qua Delle altre zucche Sarà mica un segno del destino? Perché nello scorso episodio ho trovato le zucche Proprio quando stavo finendo il video Oh C'è il mare Quindi ci potrebbe essere veramente la qualunque Dobbiamo raggiungere i confini del mare ragazzi Per vedere quale sarà la prossima terra Mi raccomando ragazzi Lasciate un bel mi piace Se volete che questa serie continui Io cercherò sempre di essere super temerario e coraggioso E andare alla ricerca di Herobrine Segnalate qua sotto nei commenti Se avete trovato qualcosa di strano Mi raccomando perché mi aiutereste tantissimo Dal vostro Kendal Imperatore Tutto e noi ci vediamo domani Con un prossimo video E' vero che domani ci vedremo con un prossimo video Mucca? La mucca? E' vero che domani ci vediamo con un prossimo video E' vero che domani ci vediamo con un prossimo video